Sommiglia a lei L'hai visto? No, non l'ho vista Sommiglia a lei L'indice di H era buono 6.9 Lui starà benissimo Alla grande Cristina Meredith Grey È sopravvissuta a una bomba A un annegamento A un uomo armato Un disastro aereo Ed è ancora qui Morirà a 90 anni Vecchia e al caldo nel suo letto Non morirà oggi Oggi lei starà bene Me lo spero proprio Deve stare bene È la nostra persona Meredith ha avuto Una fortissima emorragia splenica L'ho rimossa Ma Lei Oddio No Sta bene La Bailey ce l'ha fatta Con l'assistenza del dottor Ross La Bailey ha deciso Che è più sicuro tenerla qui Finché non si sveglia Evviva Evviva Mi dispiace ragazzi Non volevo piangere E spaventarvi Solo che ho Ho fatto Portiamolo su Portiamolo su